Gialluca Sebastiani, Sagrada Basket, Gialluca buongiorno. Buongiorno. Allora, vieni più avanti per favore. Allora, oggi è partita contro? Pesaro, Olimpia Pesaro. Quindi che cosa ci vuoi dire di questa partita? Speriamo di vincere e giocare bene. Sì, come tutte le altre partite. Allora, parliamo un attimo del campionato. Avete disputato, come sempre, nove partite, giusto? Sì. Quante ne avete vinte e quante ne avete perse? Ne abbiamo vinte otto e ne abbiamo perso una contro Pesaro. E come state in classifica? Secondi. Seguiti da? Seguiti da Ancona. Ancona, sì. Quindi chi temete di più in questo campionato? Temiamo di più Iesi, Ancona e Pesaro. Oggi la tua squadra è completa o manca qualcuno? È completa, è completa. Ok, allora in bocca al lupo per oggi, Gialluca. Crepi. Ciao. 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 Ciao.